Dubble Fass, un primo tempo e un secondo tempo doppia faccia. Forse vi è mancata la cattiveria nel primo tempo nell'approfittare della debolezza mentale dopo l'erroraccio di Michelin su quel calcio d'angolo, mister? Ma è una partita dura da decifrare, una partita strana, una partita sotto controllo. Dopo siamo mancati, abbiamo fatto un errore, Vignani, sul secondo gol. E c'è stato. Purtroppo sapevamo che l'Aquila c'era giocatori di qualità, sapevamo che noi gli dovevamo lasciare palla libera, purtroppo hanno approfittato dell'errore nostro. Dispiace, però bisogna subito ripartire, bisogna subito ripartire e leccarsi e ferire. Dispiace perché era una bella cornice di pubblico. Il calcio è questo. L'Aquila era ferita dall'Aquila, adesso siamo feriti noi. Mister, in alcuni minuti è sembrato un campo basso che forse aveva consumato fin troppa benzina, soprattutto sulle seconde palle, soprattutto nei recuperi, quando gli attaccanti dell'Aquila tornavano indietro per guadagnare secondi e calci di punizione. Forse siete mancati anche lì, è finita un po' anche di benzina sotto l'aspetto fisico. Ma è stata una cosa mentale perché l'Aquila ci ha fatto 1-2. Ha pareggiato subito, poi ha fatto subito il 3-2 e siamo andati un attimo in difficoltà mentale. Dopo ci siamo un attimino riassestati, però è diventata una montagna dura da scalare. Però il calcio è questo. Ci vuole calma e gesto e lavorare. Tanto uno va a vedere i risultati, sono tutti strani, anche la Samba che ha pareggiato col fan. Purtroppo è questo. Ci vuole soltanto consapevolezza dei nostri mezzi, buttarsi il giro subito a sconfitta e lavorare. Si è allargata dopo la giornata odierna la rosa delle squadre favorite, mister. Perché sembra un campionato più equilibrato rispetto a quello che sembrava durante la campagna acquisti, durante il periodo estivo. Ma questo è un campionato difficile, equilibrato, lunghissimo. Ci sono tante squadre prevententi alla vittoria finale. Andrà avanti chi salirà sul pulmo giusto, con le persone giuste. E con la benzina giusta, a proposito di auto-mezzo. E le persone negative devono scendere. Perché l'Aquila sembrava, prima di questa partita, in difficoltà. Il calcio è bello, è sempre l'occasione per i farti. Però dobbiamo stare tranquilli. Ci vuole calma e gesto, lavorare. Il campionato è lungo. Adesso sono tutte squadre pretendenti, bisogna vedere chi arriva alla fine. E' normale, fa male, però dobbiamo guardare avanti. Grazie mister, in bocca al lupo. Mi riprendo l'auricolare. Grazie mister. Per nome lo prego. Grazie di cuore. Grazie di cuore.